Finalmente la manovra è più equa, con queste parole Silvio Berlusconi ha salutato, stappando lo champagne, come lui stesso ha detto, l'accordo raggiunto ieri al lungo vertice di maggioranza che si è svolto ad Arcore. In realtà questa terza versione della manovra economica sembra tutto fuorché più equa della precedente, che già era raffazzonata e a sua volta molto iniqua. Tanto è vero che a poche ore dalla conclusione di quell'accordo esplode una nuova rivolta, i fronti di opposizione nei confronti della nuova versione della manovra che Berlusconi ha imposto a Tremonti e Bossi sono molti, da un lato c'è la CGL che soprattutto nei confronti della norma relativa alle pensioni, una norma con la quale si rende di fatto nullo il patto che i pensionati o i pensionandi hanno sottoscritto con lo Stato, riscattando gli anni relativi alla laurea o al servizio militare, questa norma ha destato l'indignazione del segretario della CGL Susanna Camusso che già aveva proclamato uno sciopero generale e che ora parla esplicitamente di un vero e proprio golpe, perché si mette mano ad un diritto precostituito e lo si fa nella maniera più ingiusta possibile, penalizzando una categoria specifica e dunque la CGL grida al golpe e rilancia con buone ragioni i motivi dello sciopero generale, ma non è solo questo l'aspetto che fa indignare tanta parte di opinione pubblica, c'è anche il tema del contributo di solidarietà che come sappiamo è stato tolto per i contribuenti di fascia medio alta, cioè dai 90 mila Euro di reddito anno in su, ma è stato mantenuto curiosamente e anche qui iniquamente solo a carico dei dipendenti pubblici, con una discriminazione della quale non si comprende davvero il senso e contro questa si scagliano per esempio i magistrati, con patti che addirittura a loro volta ipotizzano uno sciopero contro questa norma specifica, ma contro questi due aspetti si sta scatenando anche una piccola vandea interna alla maggioranza, tanta parte di parlamentari del PDL stanno muovendosi per cercare di impedire che da un lato la norma sulle pensioni, dall'altra questa norma specifica sul contributo di solidarietà per gli statali finisca tra gli emendamenti alla manovra. Una manovra della quale comunque a questo punto non si comprende più non solo il senso, ma anche l'entità, perché la precedente versione, quella di Tremonti, aveva tantissimi difetti, ma almeno sembrava rispettare il saldo finale, una manovra da circa 45 miliardi circa nel corso del triennio. Questa nuova versione corretta e riveduta da Berlusconi in realtà fa acqua da tutte le parti, i saldi sono ballerini, non si vede come si possa arrivare ad un'entità così importante, quella dei 45 miliardi di Euro, che la stessa Italia aveva concordato con l'Unione Europea. Dunque a questo punto, al di là del fatto che alla fine riuscirà o non riuscirà a passare in Parlamento questa nuova versione della manovra, la domanda vera è, basterà all'Europa e soprattutto basterà ai mercati per placare la seta degli speculatori e quindi impedire che riparta una nuova aggressione sui mercati nei confronti del nostro Paese? Su questo i primi segnali sono davvero inquietanti, perché proprio oggi gli spread differenziali tra i nostri tassi di interesse sui BTP e i titoli di Stato tedeschi sono tornati sopra quota 300, questo è un fatto molto preoccupante di qui ai prossimi giorni. Dunque Berlusconi avrà sicuramente salvato la sua maggioranza, ma ancora una volta non ha salvato l'Italia.